In questo video ti spiego come trasmettere un video da Zoom Meetings senza condividere la schermata del tuo PC o la finestra di media player. Clicca su Condividi schermo. Clicca su Avanzate. Adesso fai clic su Video e poi clicca su Condividi. Seleziona il file video da trasmettere e clicca su Apri. Hai appena aperto il video. Ora clicca su Play. Il vantaggio è che puoi interagire con le notifiche di Zoom e fare altre cose col PC senza che i partecipanti alla riunione lo vedono. Non si vede neppure la barra del tempo né il cursore del mouse. Per interrompere la condivisione basta chiudere la finestra del video. Grazie per avermi seguito. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e se hai domande falle nei commenti qui sotto scrivimi a comeusare.tutorial.gmail.com Ciao e ci vediamo al prossimo video! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.